No, scusami, facciamo? No, scusami, ti faccio. L'attunciata allora, ok? Tutto partito, modi partiti? Tutto partito. Ok, allora sanguinato la prima. Ragazzi, perché due atei come voi hanno interesse a raccontare la storia di San Gennaro? Che cosa ha di speciale San Gennaro? San Gennaro ha di speciale che è un santo straordinario, cerco di spiegarmi. Gli puoi chiedere tutto. Nell'immaginario, ecco proprio per un ateo, nell'immaginario popolare si è creato un santo a cui poter chiedere di rubare, di vincere all'otto. È come se qualcuno negoziassere dentro il meccanismo dell'errore. Quindi se tu hai l'amante, San Gennaro dici sì, però le devi voler bene, non deve essere una cosa così. Cioè, mi sono sempre appassionato a questo santo che non giudica mai, ma accompagna. Allo stesso tempo è un santo talmente presente dentro la storia quotidiana del potere, della cultura napoletana, che ci permetteva di raccontare Napoli attraverso i suoi miracoli. Nel corso di questi 15 anni, attraverso i quali ho fatto vari incontri con la drammatologia, li chiamo col teatro, in effetti io sono anche uno che ha sempre affrontato poi la fede, indirettamente, non indirettamente, attraverso quel solito quesito, quel solito assioma che mi sono sempre posto, come si fa ad ottenere il bene senza compiere il male. E in questo San Gennaro potremmo dire che lo rappresenta pienamente. In questo caso, quando Roberto, perché poi l'idea è stata di Roberto, che è un maniaco di San Gennaro, un collezionista, un collezionista di ogni tipo di manifestazione concreta di San Gennaro, dalle statue a qualsiasi altra roba, da lì ho capito che potevo applicare anche quello che può essere la ritualità del patto collettivo di espressione del mio teatro, che c'è che ci potevo stare dentro. E poi tu sai che, come al solito, io ricerco sempre Dio da qualche parte. Assolutamente. Un po' sul vostro incontro, Roberto, tu sei uno scrittore, uno che è abituato a lavorare con il dato reale, con la cronaca, no? Mentre Mimmo invece è un poeta, uno che utilizza la realtà per trasfigurarla. Quindi mi chiedo, la curiosità, cioè su quale terreno vi siete incontrati? Qual è il punto di sintesi fra voi due? In realtà, benché sembrerebbe diametralmente distante, il lavoro di Borrelli e il mio si somigliano con nell'ossessione, parola che prima ha speso Mimmo, nell'ossessione irreale. Le sue parole, le sue stemme, il suo modo di avere a che fare con i liquidi umani, la merda, il piscio, gli umori, lo sperma, che sei sempre dentro. È molto simile, diciamo, al racconto nelle mie pagine. Ovviamente il metodo è diverso, a volte anche l'obiettivo, in molte mie pagine l'obiettivo è smontare un meccanismo di potere, mostrarlo. Nelle sue pagine, nei suoi testi, spesso l'obiettivo invece è al contrario, e narrarlo, esprimerlo, ecco, meglio che narrarlo, esprimerlo, e farlo apparire davanti agli occhi. Il lavoro, quindi, a noi entrambi c'era sembrato più difficile a teorizzarlo, cioè come faremo a far funzionare queste cose, invece nel realizzarsi è stato assolutamente quasi simbiotico. Cioè c'è proprio una corrispondenza, cioè tu racconti, lui evoca. Esattamente. In che modo, secondo voi, la vicenda di San Gennaro, perché prima lo accennavamo, vi permette di raccontare la Napoli di oggi, ammesso che ciò accada, se accade? In effetti abbiamo tentato assolutamente di capire come poter rivadere e superare l'oleografia, la storiografia, anche così interessante per carità, però di poterla superare per poter poi dare al pubblico la possibilità di rivedere un qualcosa del passato e dire no, ma questa cosa esiste anche nel presente, che poi è quello che il teatro cerca sempre di fare. Da lì poi abbiamo lavorato appunto sul presente, cosa ci riporta al presente. La rivoluzione partenopea è sicuramente, ha un aspetto incredibile nelle truppe dei sanfedisti che somigliano incredibilmente all'Isis per tutta una serie di aspetti, e poi vabbè c'è il finale che potremmo dire da lì, poi Roberto vi parlerà di quello che vuol dire il senso dello spettacolo, in cui andiamo a, io in maniera espressiva, in maniera anche pindalica, in maniera un po' caletoscopica, anche viscerale, faccio un quadro potremmo dire astratto, come potrebbe fare Pollock, e metto dentro tutta una serie di espressioni sensoriali di Napoli, le butto lì che sono anche molto attuali, Roberto invece ne dà il fondamento, Roberto sorregge quel quadro. Scusami, ne approfitto per un'imbeccata, me la fai sentire questa cosa che dici? Che stai dicendo? E non mi guarda storto. Quanti versi vuoi sentire? No, un po', un assaggio. Napoli senza famiglia, Napoli senza figlia, Napoli cupigli in dippacca mentre figli, Napoli senza Dio, Napoli senza maronna, Napoli a domarì, i sanghi sono fonte, Napoli con bannata, eccetera eccetera. Grazie, meraviglio. Dunque, Roberto, rispetto a Napoli, tu in pratica sei stato, possiamo dire, ostracizzato dalla città, e mi piace anche questo termine proprio perché, come saprai, i cocci, mi chiedevo quanto questo spettacolo è per te un grido di appartenenza, un tentativo di affermare con forza il tuo legame indissolubile con la città, dire, cioè, quel sangue che muore e rinasce, cioè, è anche il mio sangue. Sì, la metafora più grande che Gennaro dà, e quindi Napoli dà al mondo, è proprio questo sangue che muore e rinasce, anche per i non credenti. E la passione che ha generato questo santo, secondo me, risiede in questo miracolo dal simbolismo poetico umano, cioè, laddove qualcosa può rinascere, non muore mai. Quindi il sangue si secca, ma se può rinascere, il che significa? Se tu non perdi la speranza di trovare una nuova origine, il sangue torna a scorrere. Per me il rapporto, diciamo, di sangue e Napoli con la mia città, mi piace la metafora che ho usato dell'Ostragon, cioè, è il mettere insieme cocci che io non ho mai voluto essere tali, cioè, era integro il mio rapporto con la città, che poi è stato frantumato da una serie di furbe incomprensioni di una parte, almeno, di essa. E quindi il tornare a far scorrere il sangue in quelle vene, che sono vene che mi appartengono. Mimmo, attimo un'altra cosa. Tu sei a tutti gli effetti, in questo momento, l'alfiere della nuovissima drammaturgia napoletana. Quanto senti questa responsabilità rispetto a Napoli, che è una città dove, appunto, tu sono anni che sei lì sulla cresta, no? E tu lo sai benissimo che poi, quando arrivi troppo sulla cresta, poi non sei più profeta in patria, perché a Napoli poi sarai odiato per questo. E quindi già adesso ci sei vicino, secondo me. Ci sei vicino, io. Tanto tu lo sai, a me dicono sempre, noi aspettiamo sempre lo spettacolo che sbagli. E a questo punto mi verrebbe da dire, Waiu, quando venite a Napoli a fare questo spettacolo? Napoli, sì, vediamo, nel senso che è un po' un obiettivo farlo girare nelle terre che ci chiamano, quindi vediamo come, quando e chi ci chiama. Il fatto che sia stato originato dal piccolo è dovuto a Sergio Escobar, che ha creduto subito a questa follia. Però l'obiettivo, appunto, è portarlo in giro e vediamo un po' con Napoli che cosa succederà. È bizzarro, no, che la storia di San Gennaro stia proprio lontana da Napoli. Assolutamente. Ultimissime cose, volevo chiedere di rivolgervi a vicenda, dopo questo lungo periodo di collaborazione, che siete diventati amici, collaboratori, eccetera, eccetera, un complimento e un appunto. Se vi va, provateci. Ma io già so che mi dirà adesso. Allora, vedi, teno un mario lungorpo. Esattamente. No, le puoi dire, non mi offendo. Due cose. Ciò che mi ha nutrito è stata la disciplina del lavoro, l'assoluto focus sulla creatività del testo e della scena. Vengo da anni in cui ogni operazione artistica che faccio deve subire uno stress dalle dinamiche politiche, cioè chi mi odia dirà che è un inferno, che è una cosa orrenda, chi mi ama indipendentemente dirà che proteggerà almeno quella cosa. Questa è una dinamica mortale per l'arte, per l'arte letteraria, per la narrazione anche televisiva, che considero una declinazione del mio percorso letterario. Mimmo qui mi ha proprio insegnato a tenere il focus sulla parola, il focus sul teatro, sulla costruzione del nostro spettacolo e quindi sul proprio lavoro, anche se lo stesse facendo per una persona, se venivano ieri 12 persone, Mimmo faceva la stessa cosa, mentre io sarei stato in panico, perché avrei detto dove ho sbagliato. E così è un errore, perché ti stai costruendo una strada esterna all'opera che stai costruendo. L'appunto è su invece il misurare tutto con la sua intensità teatrale, quindi più che un appunto è che io ho dovuto entrare dentro senza traduzione ai suoi tempi, ai suoi modi e so anche bene se è trattenuto, perché io sono arrivato per i suoi tempi tardissime, sono arrivato dall'America tardissimo, ero in un'ansia, però volendomi bene, questo l'ho sentito lì, tracimava poco, cioè capiva che non era un'usfizia mia e che quindi, però per i suoi tempi lo sentivo che era proprio, è caro, diamo a mare, perché è tutto troppo tardi, no? Per me invece un mese di prove è stato mai nella vita e quindi insomma... È chiarissimo. Mimmo, su Roberto, tirate su Roberto. Il pregio di Roberto è secondo me l'intelligenza scenica, che veramente, sai che io sono, perché gli attori sono ferocissimi, non mi piace nessuno, però Roberto ha un'intelligenza scenica nel sentire il pubblico, nel fiutare, nel fiutare anche la drammaturgia, perché la drammaturgia in effetti noi l'abbiamo pensata prima, ma lui poi ha applicato la drammaturgia, lo posso anche dire, è arrivato col testo, col malloppone, e io ero in panico nero, lui mi diceva fammi vedere le scene, ho visto le scene, lui iniziava a capire come doveva articolare il tracare, non era una cosa facile, io non ci sarei mai riuscito, quindi una grandissima intelligenza culturale. E l'altro, il difetto, sai qual è? È che è troppo buono, è troppo disponibile, è troppo buono, e lui quindi soffre di cose che mi dice ogni tanto, io sto, magari ho usato la depressione, io sto depresso, ma che stai depresso, muovi a New York, a dicembre stai a New York. È troppo buono, a questo mondo, noi siamo molto simili in questo, però io la mia bontà, poi ho avuto la fortuna di trovare la scena come luogo di devastare la mia violenza, se non avessi accisa la gente, se non avessi accisata la pistola, se non avessi accisata la gente, se non avessi accisata la pistola, se non avessi accisata più. Non ho dubbi, non ho dubbi, non ho dubbi, se non avessi accisata la bomba, avessi fatto terrorista, ma veramente, è stato uno del genere, pericolosissimo. Quelle cose di solito uno dice, il teatro mi ha salvato, no, il teatro scia ha salvato questo caso. Questo è buono. Invece lui, la sua bontà lì è, anche se lui sa dominare, perché poi è un animale della comunicazione, anche in questo, però la sua bontà poi la gente ne approfitta. Però questo non è un consiglio, è una roba che lui sa meglio di me. Benissimo, ragazzi, io vi ringrazio molto. Se vi va, vi fare un invito ai nostri lettori, perché lo spettacolo è ancora a lungo, questo servizio uscirà, credo, questo fine settimana, perciò ci sono ancora tante reprie. Quindi se vi va, vi fare un invito ai lettori di fanpage. Vi aspetto. Sto scherzando, no, veniteci a vedere, siamo qui a Milano, al piccolo di Milano, dal 5 che era ieri, al 17. Non vi preoccupate, è un bel viaggio, un bel viaggio. Se venite mi fa particolarmente piacere, così ci si vede. Il teatro ha per me ancora questa bellezza, la possibilità di sentirsi, sentirsi fiati, annusarsi, guardarsi negli occhi, stare non semplicemente distanti. Quindi ai lettori di fanpage mi fa piacere lanciare questo invito a vedere Sanghe Napola, dal 5 al 17 aprile, il piccolo di Milano, con Mimone.